Sì, era meglio. Senti, è tutta la notte che pattiamo e non hai messo nemmeno una pallina in buca. Cosa pensi? Io ti mando sul gommone coschettino, eh? No, non ti prego, coschettino no. E allora metti quella pallina in buca, capito? Ti conviene? È che lo muovo tutto storto, guarda lì. Non so cosa fare. Non me ne frega niente se non sai cosa fare. Domani è mercoledì. Domani bisogna vincere. È circuito a nove buche. Ci tengo e noi bisogna vincere. Allenati ancora.